Wi-Fi Communication offre connessioni ad internet e telefonia su tutta la Lunigiana, la Valle del Taro e nelle province di Massa Carrara e La Spezia. Si tratta di connessioni super veloci e senza fini. Wi-Fi Communication lavora su una rete propria ed impiega personale del luogo per tutti gli interventi di manutenzione e assistenza. Per qualsiasi informazione, contattalo 0187 18 35 130. Oppure visita il sito www.wifi-communication.com Wi-Fi Communication, l'operatore internet più veloce e affidabile della zona. ADSL, fino a 100 Mbps e nessuna sorpresa in bolletta.